Con i suoi 143 anni di storia è una delle feste più antiche della città di Pesaro. Fra funzione religiosa e funzione aggregativa di intrattenimento, anche quest'anno Santa Veneranda si prepara ad accogliere la festa del Basilico negli spazi all'aperto della parrocchia per quattro giorni di celebrazioni dal 1 al 4 agosto. Fin da quei tempi la tradizione viene rispettata, molto partecipata. La chiesa viene parata festa, vengono accesi i ceri in tutto l'altare, viene illustrata e la gente attende moltissimo questo momento. C'è anche un altro grande motivo per cui questa festa è così attesa, perché nei tempi chiaramente antichi cosa facevano? Questo era l'appuntamento che i giovani davano alle fidanzate. Cosa facevano i giovani? Preparavano dei mazzettini di basilico che poi appendevano al loro giubbottino, alle loro maglie o quello che... Poi nel pomeriggio, durante la festa, le donne spezzavano una foglia di basilico e lo appoggiavano nel loro corsetto. Questo significava che accettavano la loro proposta. Oggi chiaramente i tempi sono cambiati, la festa si attende per altri motivi, perché comunque c'è tanto spettacolo, c'è la musica per grandi e piccini, ci sono i truccabimbi, ci sarà musica da discoteca, ci sarà il liscio. Quest'anno siamo andati alla ricerca anche del basilico artico, che sarà una novità. Purtroppo abbiamo preso poche piantine perché non è che ce ne sono tante, però tutto sommato sta venendo una buona e bella festa. Abbiamo cambiato molto perché non abbiamo più solamente la ristorazione che c'era l'anno scorso, abbiamo il street food, il venerdì c'è i bambini dell'asilo, il sabato c'è Radio It Italia, quella che... e la domenica l'orchestra è la terza idea. Più nei tramezzi ci sono i ragazzi del balletto, altre cose, truccabambini, queste cose qua. Più dopo ci sarà all'ingresso il tunnel del baseball, che i ragazzi possono provare a lanciare, più c'è uno stand per i bambini stessi per fare i braccialetti, queste cose qui. Quindi è una festa familiare anche per i giovani perché il venerdì con i bambini dell'asilo sappiamo che radunano molti giovani.